Nelle ultime ore è giunta una notizia di grande rilevanza che potrebbe cambiare radicalmente le sorti del misterioso caso di Liliana Resinovic. Dopo mesi di silenzio, sembra che il vicino di casa abbia finalmente confessato, gettando luce su una vicenda che ha tenuto in sospeso l'opinione pubblica italiana per tanto tempo. Gli investigatori, da mesi alla ricerca di una svolta nelle indagini sulla morte di Liliana, avevano sperato in una confessione simile. Le nuove rivelazioni sono avvenute proprio durante la trasmissione televisiva Quarto Grado, una fonte affidabile quando si tratta di inchieste su casi di cronaca intricati. La confessione del vicino di casa, Fulvio Colavero, ha sconcertato il pubblico televisivo. Colavero era il vicino di casa di Liliana al momento dei fatti, e ha finalmente deciso di rompere il silenzio, rivelando dettagli finora sconosciuti agli inquirenti. Colavero ha dichiarato che l'ultima volta in cui ha visto Liliana è stata in un piazzale, dove è stata inquadrata da una telecamera di sorveglianza mentre saliva in macchina con un individuo che conosceva bene. Questo dettaglio cruciale non era emerso nelle precedenti indagini. Dopo quel momento, la donna scomparve misteriosamente fino al ritrovamento del suo corpo. Secondo il vicino di casa, le evidenti tumefazioni sul lato destro del volto, riscontrate durante l'autopsia, indicano che Liliana potrebbe essere stata aggredita e colpita dal suo aggressore. Colavero suggerisce che l'aggressore potesse essere una persona delusa o con motivi personali per compiere tali atti di violenza. Le dichiarazioni di Colavero sono state prese in seria considerazione dalla magistratura, aprendo così nuovi scenari nelle indagini sul caso. Grazie a tutti!